Misurina diventa misurata, delle tre cime di Lavaredo ne rimane una sola e la cinquecentesca chiesetta di Santa Caterina si trasforma in Santa Cristina. Sono perle apparse nella campagna promozionale Open to Meraviglia promossa dal Ministero del Turismo alla voce Cosa vedere in Veneto nella pagina dell'apposito sito veneto slash guida storia curiosità. A scovare gli errori davvero marchiani del Ministero è stato Marco Perare. Divertito come cittadino abbastanza arrabbiato come amministratore pubblico non c'è un motivo per cui un'operazione del genere col costo che è stato preventivato sia stata realizzata sia pure in questa fase sperimentale in un livello qualitativo così grossolano. Errare umanumeste ma chi ha sbagliato non si è fatto purtroppo problemi nemmeno nel perseverare tanto da sollecitare in Senato un'interrogazione parlamentare da parte del vicentino Pierantonio Zanettina la cui provincia è bersagliata di errori quasi quanto quella di Belluno. La traduzione automatica di Google o della intelligenza artificiale può fare tutti gli errori che vogliamo se nessun umano consapevole li controlla ma qualcuno che ha scritto misurata nota località delle antiche colonie italiane della Tripolitania rispetto a Misurina richiede solo una totale incompetenza da parte di chi lo ha scritto e non ha riguardato il testo. Dal canto suo la Armando Testa cui è affidata la realizzazione della campagna si difende sorridendo con pagine di giornali intitolate Open to Grazie in cui oltre allo smentire i 9 milioni di euro attribuiti come cifra dell'incarico si spiega come i refusi fossero contenuti in un video illustrativo del progetto fatto con materiali d'archivio ben lungi dall'essere lo spot ufficiale della campagna stessa. Oggi hanno pubblicato un paginone sul corriere e era il minimo che potessero fare ma tentano di salvare il salvabile per il loro cliente sono dei dilettanti veramente grossolani.